Il circolo della solidarietà della costa di Rivarolo è un esempio importante, diceva, della solidarietà che si trova sul territorio. Sì, lo è, mi sembra un segno nato dalle esigenze ma anche dalla buona volontà. Il bene non lo si trova, bello è fatto, ma coinvolge la libertà delle persone. Per cui ci sono stati degli attori di questa realizzazione e a loro va il merito, però per essere viva ci sarà il bisogno di tutti, di quelli che la frequentano, di quelli che la mantengono, che la migliorano.